Paura per due incidenti che si sono verificati nel giro di un'ora a Lucca e che hanno visto coinvolti una moto e uno scooter. Il primo scontro si è verificato sulla via di Tiglio, a San Filippo, dove un motociclista si è scontrato con un'auto. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118. La peggio l'ha avuta il centauro che avrebbe riportato la frattura di una gamba. A chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto dovrà essere la polizia municipale di Lucca, che ha condotto i rilievi sull'incidente. Il secondo episodio si è verificato poco dopo all'incrocio tra via Santissima Annunziata e via delle Pierone, dove uno scooterista, per evitare un'auto, ha frenato bruscamente, evitando l'urto ma finendo rovinosamente a terra. Oltre a varie contusioni, avrebbe riportato la frattura di un braccio. Sul posto transitava per caso l'assessore alla mobilità Celestino Marchini, che si è fermato improvvisandosi vigile per regolare il traffico. Ci sono state anche proteste dei residenti, secondo i quali a questo incrocio gli incidenti si verificano di frequente. Al di là della dinamica di questo scontro, sembra che le auto che arrivano da via delle Pierone debbano necessariamente oltrepassare lo stop per vedere se arriva qualcuno dall'altra parte, e lo specchio dall'altro lato della strada non sarebbe di grande aiuto. In più, in pochi rispettano il limite di velocità e spesso ci sono auto parcheggiate ai lati della strada.